...a Roma, colpito obiettivo alla riunione pugilistica organizzata dalla società sportiva Bruno Mussolini per il campionato europeo. L'italiano Musina e lo svedese Thunberg, protagonisti dell'incontro dei pesi massimi. Musina da Gorizia, 80 kg, riesce ad avere la meglio sul gigantesco svedese, superiore a lui di 12 kg, e lo batte ai punti. Musica Per Rara, momenti del campionato di patinaggio a rotelle, su pista, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale, al quale partecipano 26 concorrenti di varie province d'Italia. Risultano vincitrici Luciana Rizzetto ed Elisabetta Francetti da Milano, rispettivamente per la gara dei 10 e dei 5 mila metri, che si aggiudicano il campionato mondiale per le singole prove. Musica 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 Grazie a tutti. Le due campionesse.